La vaccinazione di massa credo che sia la strada per uscire da questa situazione e quindi sfruttare ogni possibile risorsa sul territorio credo che sia utile. Quindi un'opzione che va sicuramente messa in campo, utilizzata se ce n'è realmente bisogno. Oggi, ancora oggi, la capacità di vaccinare dei centri attivati dalla US di Bologna insieme anche al nostro aiuto e quelli che i tre che abbiamo attivato noi hanno ancora margine per poter vaccinare di più e ancora il limite è rappresentato dal numero di dosi. Quindi in questo momento introdurre nuovi vaccinatori, se non ci sono le dosi, in questo momento specifico non è più di tanto utile, ma sicuramente se cambierà l'opzione di avere anche le farmacie potrà essere un'opzione da sfruttare.